Benvenuti allenatori in questo nuovo video dedicato agli spacchettamenti Pokémon nel nostro canale Questo Pokémon a chi lo do come sempre io sono Roberto e io sono Jacopo Dopo la non fortunata spacchettata di venerdì scorso in cui abbiamo trovato veramente, ma veramente delle carte brutte di qualsetto allenatore fuori classe oggi cerchiamo di rifarci con una bella spacchettata Cosa andiamo ad aprire? Un box da 12 blister di fiamme oscure Apriremo soltanto le fiamme oscure perché andiamo a aggiungere i pacchetti di Fragore Ribella agli altri farli vedere che stiamo aspettando di spacchettare naturalmente insieme a voi Comunque noi stiamo cedendo alla tentazione perché già ne abbiamo aperti 4 4 è vero perché piano piano ragazzi purtroppo spacchettare è più forte di noi Quindi oggi ci andiamo a spacchettare questi bei 12 blister Sei bustine tu e sei bustine io Vogliamo ricordare che cosa abbiamo trovato nello scorso blister? Abbiamo trovato il Charizard V Max Però ci manca il Charizard V Ci manca pure il Mew V Qualche Gold Qualche allenatore full art Rillaboom Rillaboom Gold Insomma di carte ce ne mancano parecchie Comunque io prima del video mi sono messo a vedere un po' le carte Gold, Hyper Sono bellissime, sono fantastiche Molto meglio questa espansione rispetto a Fragore Ribelle È vero, è vero Spadescudo mi è piaciuta però Devo essere sincero A me solo le V Veramente? Sì Veramente Sì Sì, comunque come artwork sono veramente belle Sono veramente belle, molto meglio delle GX le V Quello bisogna dirlo Inoltre ragazzi Anche quest'oggi faremo un giochino con voi Come al solito Oltre ai codici dei pacchetti Regaleremo un codice in più E di che cosa Jacopo? Leggi un po'? X, Y, Evoluzioni Busta di espansione Quindi le regole ragazzi le trovate sotto nei commenti Troverete all'interno del video Quattro serie di codici alfanumerici Non dovete fare altro che segnarveli Trovare il giusto ordine E inserirli Per riscattare una busta di espansione di X, Y, Evoluzioni Inoltre venerdì scorso è stato molto apprezzato anche Naturalmente noi abbiamo scoperto la Premiere Quindi faremo sempre la Premiere alle 19 del video E in quell'occasione avrete l'opportunità di chattare con noi Dirci che cosa ne pensate e quant'altro E anche in quell'occasione Regaleremo un altro codice Come abbiamo fatto venerdì scorso Quindi direi proprio che È un gran bella occasione Per giucciarsi un codice in più E farsi una chattata con noi Come sempre prima di iniziare a spacchettare Vi ricordo di Iscriversi al canale Lasciare un mi piace Commentate che così ci sostenete Perché per noi i commenti e i like sono fondamentali Attivate le notifiche per non perdere i nostri video Ricordatevi che noi spacchettiamo sempre il venerdì alle 19 Esatto Iscrivetevi al nostro canale TikTok e al nostro canale Instagram Vi dobbiamo ringraziare perché anche lì stiamo crescendo con il numero di iscritti Prima di cominciare a spacchettare volevo spendere due paroline per la nuova espansione in arrivo a settembre Io ancora non ho chiesto Che si chiama Futuri Campioni Ed è una sub-espansione Difatti l'espansione è 3.5 Che cosa vuol dire sub-espansione? Esattamente come destino sfuggente Sfuggente come Qual era l'altra? Leggende ride-escenti Non si troveranno i pacchetti singoli come succede per tutte le espansioni Ma soltanto nelle confezioni speciali Quindi ci saranno tutta una serie di confezioni speciali Dedicata fra l'altro alle palestre di Galar Con le spillette Proprio fatto per bene E ci sarà anche naturalmente il set allenatore fuori classe Che non conterrà 8 pacchetti come tutti gli altri Ma ben 10 pacchetti E diciamo che su internet si trova intorno ai 59€ Quindi diciamo che 5,90€ a bustina Ma in più Dentro il set allenatore fuori classe si trova una carta esclusiva Che è un Ne parliamo sempre Un Charizard Un Charizard Un Charizard Full Art Quindi dentro ogni set allenatore fuori classe Si trova un Charizard Full Art Che insomma Mica male Sì Poi noi abbiamo sempre avuto fortuna con il set allenatore Tranne questo Tranne l'ultima volta Però ragazzi Preparatevi Perché mi sembra che dovrebbe uscire il 25 settembre Quindi iniziate a preordinare Dei vostri distributori di fiducia Quindi nel senso Noi naturalmente spacchetteremo con voi il 25 Giusto? Se arriva tutto in tempo Saremo con voi a spacchettare futuri campioni Non si sa ancora l'elenco delle carte Ma si vocifera che ci sia un Charizard V Max Hyper Che è l'unica Hyper V Max che manca di questa espansione Quindi potrebbe essere lì Il che se confermato potrebbe far schizzare il valore della carta Ma di questo ne parleremo più avanti Adesso noi iniziamo a Spaghettare Vai cambiamo la telecamera e si comincia Apre tu come sei Apre io Speriamo che questa volta le telecamere non ci fanno brutti scherzi Come è stata l'ultima volta Sei pronto per una pioggia di pacchetti? Pate tozzi Allora dai scegli tu Dividi tu Che l'altra volta a me Mi hai concesso un Charizard Guarda questa volta non mettiamo a spiegare Guarda eccolo No Mi frega Ah vabbè io te ne ho fregata i due di altro Attenzione perché ci sono Ho visto in un Questi sono tutti i miei In un gruppo su facebook ragazzi Che si trovano in edicola Dei blister con doppio pacchetto Che contengono un errore Perché hanno all'interno un doppio pacchetto di fiamme oscure Quindi mi raccomando Se lo trovate non apritelo Che quello è un pezzo da collezione Vedi 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 Vediamo vediamo No Non siamo fortunati In questo caso Non è che c'è l'altra volta Perché Praticamente sono usciti alcuni blister fallati Che contengono Due pacchetti Di fiamme oscure Invece che uno di fragole ribellino di fiamme oscure No ma dai Allora che dici Facciamo che prendiamo Non vabbè Ah vabbè vai No no le prendiamo una alla volta Così abbiamo pure lo sfondo Facciamo così dai Man mano che Ah ho capito Capito Tu prendi quella che vuoi Eeeh Così abbiamo vedi lo sfondo fashion Che non so Prendo quello di Charizard Così a caso Oh Quindi comincia Jacopo Ragazzi Vediamo un po' Che cosa Ci troviamo Ma però che peccato Vedere quelle fragole ribelle Lì Senza poterli spacchettare Questi ce li teniamo Che sia di buon auspicio Un po' di slim Infatti ma Cioè a me proprio viene la voglia Di spacchettarli Eh Infatti sì Ma tutti interior Quando saremo a corto di pacchetti Spacchetteremo quelli Ma comunque Tutti Interior Escono Sì è vero Escono tutti No è vero Ci abbiamo sette interior Sì Vabbè forse abbiamo aperto Poi l'altra volta È vero Eh Eh vabbè Mi raccomando Ma com'è possibile Oh non ci Come se Come se lo spacchettassi mai Oh Infatti No Non ce la faccio Dai Aspetta Ciao Pacchi Dammi il codice Oh Allora ragazzi Codiciozzo Inoltre Siccome quando Settimana prossima Saremo in vacanza No naturalmente Il video uscirà Comunque Il venerdì Alle 19 Stavamo pensando Di fare un video Alla ricerca di vintage Andiamo a cercare Qualche pacchetto vecchio Che dici Ok Qualcosa da collezione E poi magari montiamo tutta Vi facciamo vedere Su Energia Su youtube E Fuoco Lotta Foglia No foglia Erba Cos'è erba Erba Allora vai Ti metto la telecamera meglio Allora Guantoni debolezza Sai che si è un buon punto Con gli strumenti Campanella familiare Ci mancava Che fra l'altro Mi sa che ha pure l'effetto figo Aspetta un attimo Cerca nel tuo mazzo Un pokemon Con lo stesso nome Di uno di quelli Della tua pilla Degli scarti Mostra raggiungere le carte Che hai in mano Poi rimisca le carte Del tuo mazzo Può che non parla Non parla di base Evoluzione GXB Infatti quindi poi Sinistri Stoxel Bannal B Wimpod Avicoltore Reverse Ancora E Cling e clang Eh guarda quanto attacco c'ha però Eh si si Caspati Se non hai Cling e clang Nella tua panchina Questo attacco però Non è effetto Eh dai Vabbè Però lui si fa un bel mazzo attorno Quindi Diciamo che Il primo pacchetto Ha fatto un pochino Schifetto Però È il primo È il primo Eh guarda ce ne abbiamo tanti Che è scartato Un c'ha risardo Allora io prenderò questo Questo è pure figo La versione V Sì l'ho vista L'ho vista L'ho vista? Si è aperto o non si è aperto Controlla tu Tu sei il controllante No Non si è aperto? No Non si è solo a cartucciare Allora Che non mi ricordo mai come si chiama Come lo vedi come si chiama questo pokemon Aspetta Qua c'è un casino Eh non si dice casino Si dice ma ciao Allora E qual è? Quello questo di qua Aspetta Che dovrebbe essere un tipo Eccolo qua Grimars Fate scudo fiammo scure Da giro tu Scusi c'hanno tutti i nuovi strani Non è tanto figo In versione V Ah si è vero In versione V max si però In versione V max Magari adesso arriva Magari adesso arriva Allora Energia Fuoco Uh l'ho visto Eh l'ho visto Eh mi dispiace L'ho visto Eh Simi Sage Fossile Raro Dugtrio Eh non far vedere Sentrate Ippo Questo non ce l'abbiamo Ippopotas No ce l'abbiamo Pulvrion Fibas Gollet ci manca Dai vai veloce Twin Putreverse No Tra tutte proprio questa doveva uscire Eh infatti Già ce l'abbiamo Ma fai uscire la V max Eh infatti Perché non usciva la V max Eh Va bene va bene Però è bello Io scelgo Di nuovo lui Va bene va bene Così a caso scelto Va bene va bene Va bene dai ragazzi Su Abbiamo un po' di roba da scambio almeno No non riesci a strappare questa carta invece Io non riesco a strappare quella del pazzetto Infatti si come mai Vabbè Il primo è andato Dove lo mettiamo Lo mettiamo da nessuna parte Perché ce l'abbiamo già Qualcosa Tutte e due Riusciamo Non riusciamo a fare Vogliamo dire dove saremo in vacanza Così magari se c'è qualche allenatore Che vuole fare qualche scambio con noi Eh va bene Saremo in vacanza a Trapani ragazzi Quindi se vi va Contattateci Perché ci potremmo vedere Per qualche bello scambiozzo Che ne pensi? Sì Ci abbiamo un bel po' di carte da scambio Tra cui anche Butterfree Se ci seguite da Trapani Magari c'è dell'invaganza Io ora non Eh vabbè Io ora non provo più a A rompere Spada e scudo Fiammo scuro e codice per voi Ragazzi Tradotte direttamente Che cosa direttamente Allora per te però io questa Vai Eh sì Ecco non te ne sei manco accorto Ok acqua Acqua Dai Non lo so sai Non ne sono sicurissimo Allora Duptrio Aspetta che ti metto a fuoco Perché non vorrei perdere Ok Bello aria Adosso Questo ci manca Vecchio PC ce l'abbiamo Rowlet ce l'abbiamo Cubco Aaron Stendendo veloce Hai visto qualcosa? Sì Purlo in Pimpur No Cioè non ci credo E vabbè Dai Cioè io non ci credo Ragazzi Com'è possibile? Eh ormai Siamo pieni di V Max Ma che V No V solo due ne abbiamo Queste Com'è possibile? Com'è possibile? No Non gliela mettere E beh dai Però se la scambiamo Cioè abbiamo due V E quelle che ci sono uscite adesso Dai Ma che brutto Andiamo su Ciarisarbo va Vai su Ciarisarbo Io cambio Pokemon comunque Che ho io Ma che cominciassimo a spacchettare Puro un po' di Yu-Gi-Oh Io Io spacchetto Eh sì Ma infatti se Io giocavo a Yu-Gi-Oh Quando ero piccolo Tiè A me non piace No dai Gli artwork sono belli I nomi non mi fanno impazzire di Yu-Gi-Oh Però Bene Intanto continuiamo con i Pokemon I pochi di Pokemon Invece sono strani Ma sono belli Anche se sono strani Eppure tu ora non riesci Forse c'è Alisa Cioè ragazzi però non è possibile Così Togliamo tutto Schifo Schifo in garandolo Qualcosa ci manca però Qualcosa Qualcosa Sì non va proprio bene Siamo sempre più fortunati con Fragore Ribelle Allora ragazzi Spade Scudo Fiammoscola per voi codice Fragore Ribelle abbiamo spacchettato più cose Più cose Allora Di Fragore Ribelle abbiamo spacchettato Però non abbiamo spacchettato nemmeno una gold E' vero Allora Energia come si chiamava questa Psico L'Iron Bello questa Bosco Brilabirinto Combuscan Bunnelby Wimput Scarmory Scarmory è fantastico Però ce l'abbiamo in tutte le salse Gotita Lunatone Talonflame Va bene ci manca almeno Però non è una holo Di solito quella al centro porta sempre bene Però Però Che dici Facciamo un intermezzo con Un Fragore Ribelle Io già ci stavo pensando Dai che magari spezziamo un pochino Quanti Una testa Una testa Una testa Facciamo un intermezzo con un Fragore Ribelle Dai che magari Io mi prendo un po' Io mi prendo Sindel No anzi Rillabum È l'unico Rillabum Anzi no Che dici c'erano un milione di Rillabum Intanto metto a posto le carte Che tu hai un'altra tabla Ecco Questo per me Ok E questo per te Ci siamo Ho scelto questo Ti ho scelto quello più brutto Dai Ho scelto quello più brutto Cominci tu? Sì Vai Io già Ho iniziato No che dici Prima di spacchettare un altro Fragore Oscure Facciamo un Fragore Ribelle Va bene Comunque questo è il mio prossimo Questo è il tuo Va bene Dai ci sto Questo è il mio Vai Ragazzi i nostri video sono lunghi Lo so Però nel senso Spacchettare è così bello Che insomma Fatecelo godere con calma Oi Codice Grazie Codice di Fragore Ribelle per voi 3,4 Andiamo Foglia Non ci ha mai portato bene È vero È vero È vero Yarrow Stadio Qui ce l'abbiamo L'Ombre Wingull Phantom Bronzor Tocsel Upplin Stadis Ghost Starcrime Vale male 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 Dai Vale male 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 Non importa neanche Male 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 Toxstricity Toxstricity Cioè dovevamo trovare 2 V Ma Che ci manchino Che ci manchino Niente Codice ragazzi Spade Scudo Fraga Ribelle per voi Andiamo avanti 1,2,3,4 Olè Dai 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 Comunque sono stato io Pokéball Paper A vedere il trick Che tu non mi metto a ricordare Io no Electabuzz Natu Onage Empty Magma Via Dai magari abbiamo spezzato però Un attimino La La Sfigaton Di questi Che dici Di questi pacchetti di fiammo scura Che abbiamo tolto solo doppie Che ne pensi Vabbè Sì Vabbè Mi piacerebbe anche l'evoluzione di Rowlet Io non so quale controllare Intanto ti apro questo io Sì vai L'evoluzione di Rowlet Tipo la foglia Tipo foglia Rowlet Rowlet Non lo trovo Ah Rowlet ecco Ma ce l'abbiamo Rowlet si l'evoluzione La fase 2 Tieni Ah la fase 2 no Triccheggiati La fase 2 non ce l'abbiamo Triccheggiati bene Non cos'è Ah no no Ah mi sono sbagliato Vai Ebbene Ho visto Ho visto un hyper Sì Vabbè Veramente Ti giuro Era un hyper Allora Vai a vederla Allora Metallo Io mettiamo sempre Detenne Datri Speclang Largita Aspetta 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 Piano Carablast Ducle Gigli Metti bene Mettiti bene che non si vede Mettiti bene che non si vede Cornite Ci siamo Ho visto ho visto Che hai visto Ho visto un hyper Ma for Hai visto Hai visto secondo me La reverse Altra che hyper Ragazzi ragazzi Bene 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 Dai Speriamo di spezzare Questa Quest'alone di Sfiga mostuosa Non credo Ce ne mancano Sei A voglia Sei ce ne mancano Mamma mia Ancora tanti Comunque a te ti serve Sempre quello Per aprire E a me Mi serve sempre Che me lo apri Tu Tieni va Metti a posto questo Con questa cortesia Un sinderans Sinderans ci ha sempre portato fortuna No Non ti ricordo Eh non ti ricordi Quando abbiamo trovato Quando ho trovato Sinderans v max Ho vinto la sfida Fiamme oscure per voi Non te lo vuoi ricordare Uno due tre Quattro Vediamo Non ti ricordi Quando ho vinto Per il box Sì per il box Mi ricordo Quando hai vinto Allora Sinderans Rarikant Solo Ho preso un pacchetto Di sinderans Avicoltore Scusate ho detto una parolaccia Avicoltore esce in tutte le salse Roigli Tè di ursa Pampur Cufa C'è tanto vale ora Prendere qualcos'altro C'è Sai che faccio intanto io Io apro tutte queste Va bene Poi scegliamo Ma come Così Velocizziamo un attimo Perché qua Stiamo Ora pure io non riesco Mi sto veramente arrabbiando Aiuto Non riesco manco io Questo via Ah no Ecco Riuscito Sì sì Ahia No non ce la faccio È tutto bianco Vincolo Tu 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 Vuoi questo? Qua c'è Vuoi quello che ho aperto ora? Ah Quale Quale Sì Sì Intanto il artwork è uguale Intanto la No Non lo voglio Perché? Sei sicuro? Non lo so Io voglio quello Se voglio quello Adesso avrima questo Vai Via Io continuo ad aprire Tu intanto Striccheggia Però lo sfondo era carino Con quei pacchetti Sì però A me è interessante Lo sfondo A me interessa Quello che ci deve essere Il codice Grazie Per voi ragazzi Dobbiamo riempirla Con una V Con una bella Vmax Con una gold Allora Piano Piano Corsquale Vibravo Questo ci manca Pampor Shellmet Skowit Diglett Stauros A me è una bella reverse Ginepro reverse Non mi dispiace E Eh vabbè dai Almeno ci manca Cioè beh Meno male Dovevo scegliere questo Io Eh no Mi dispiace mio caro Ti prendi questo Metti a posto Questo Dai io Però Ginepro Allora io mi prenoto Per questo Va bene Ti sicuro? Sì Se poi te ne penti? Non me ne importa Sicuro? Tanto le carte Sono di tutte e due Un tazzissimo Allora Basta che trovi Una cosa tua O trovo una cosa io So di tutte e due Allora Andiamo Allora ragazzi Fiamme oscure Spade scudo Ci siamo Via Quanti pacchetti Ci sono qua Abbiamo perso Dai dai Che qua ci deve essere qualcosa Fuoco Bosco Brillabilinto Io continuo a vedere Dartrix Lunatone Rowlet Sentry Darumaga di Galar Se non vedo non c'è Grimair Se non vedo non credo Larvitar Buswe Male 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 C'è fatta Bravo C'è fatta Può essere che questo sia un buon segno Un miracolo Scusate le cartacce stanno a noi Forse è Chary Sard che ci ha aiutato Ma magari guarda un altro kumax di Chary Sard Non mi dispiace A me dispiace Mi dispiace Quelle sono le doppie che devono uscire No Ah giusto Perché facciamo dagli scambi così Capito? lo possiamo anche scambiare a voi se aspettiamo altri 10 minuti praticamente possiamo scambiarlo per un Charizard Gix di Destino Spuggente che il prezzo continua a salire ma noi ce l'abbiamo ma noi ce l'abbiamo Charizard Gix no, quello di là di Destino Spuggente che piace a me no Elettro Elettro, poche volte è uscita esatto allora, vai, Vanibush Rose Paras Mare Plink Dupet Grimer Gottit, è bello questo è rara è rara, quindi sotto c'è un ah, di nuovo e vabbè, dai intanto non faceva differenza anche se prendevo questo uh, si che si ha sbattuto la porta al posto dell'altro hai visto? quello era proprio il destino che doveva io mi prendo per questo quale, ok allora, allora, allora siamo gli ultimi tre pacchetti ragazzi abbiamo superato i 20 minuti di video come sempre però, oh, se ne frega che copo? adesso questo potrebbe essere veramente il video più brutto eh veramente no, no, vabbè dai, due V abbiamo trovato mi dimentico sempre la statuetta io due, tre, quattro cinque, sei manco la pronuncia oh energia è una full art non mi dispiacerebbe doppio 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 ecco bravo non dire i nomi è tanto su tutto uh, questa ci manca doppio Tauro ci voleva tanto è la V che ci manca a me io l'ho vista in quel libretto là mi è piaciuto un sacco oh finalmente ma guarda che bella c'è nel senso adesso in un blister abbiamo trovato comunque abbiamo aperto solo la metà dei pacchetti e abbiamo trovato comunque tre V brutto non è però oh allora tu come le prendi? le possiamo scambiare per altre V di questa espansione certo o anche di ancora di qualche ci manca ancora qualche V voi io sono indeciso segli bene io sono indeciso ah vabbè mi prendo questo dai sì che non l'hai aperto quella forse tu ancora infatti sì ma bene 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 uh questo slobero se ce la faccio se ce la faccio ce la faccio uh ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta che cos'è quello? cosa? che tipo è? ombra ombra comunque sembra sembra un peluche sì però è cattivo è cattivo però sembra un peluche una sola volta durante il tuo turno se questo pokemon è in posizione attiva puoi lasciare il pokemon attivo del tuo avversario buono e vabbè c'è quella pistola che sparaveleno esatto scudo fiammo scure per voi andiamo sto sudando sto sudando ragazzi energia di tipo io ancora di più sì c'è Jacopo c'è? io vedo vedo del luccichio però non lo so non vorrei fumogeno scarmori gotita paras marep daclet passage dai tripla tripla questa sì ma hai notato che questa qua ha lo stesso effetto di lapras surf sì surf c'è anche lapras poi finiscono la fantasia finisce quindi vabbè allora andiamo infatti ne sono usciti pochi pochi pokemon nuovi in questa espansione allora ragazzi se si vede un rigolo di sudore dalla mia fronte siete pazienti ma fa caldissimo qua scusate cosa avete visto secondo me loro hanno visto vediamo cosa ha visto eh quattro vediamo se riusciamo a fare finire il video con una scolatina scusate sbattere la porta allora energia di tipo acqua ma poi perché ha già sbattuto una volta perché deve sbattere si mi sa capo ci manca potrebbe essere rimisca le carte che hai in mano nel tuo mazzo poi pesca quattro carte se il tuo pokemon in attivo è il tuo unico pokemon in gioco invece pescane otto proprio se sei messo male questo qua si può salvare toxel bunnelby dai dai uuuh bella quindi dietro non c'è niente perché è una rara potrebbe essere che il mio ragionamento è sbagliato o non è sbagliato oh quello che volevamo noi però abbiamo avuto esatto almeno almeno previeni tutti i danni inflitti a questo pokemon dagli attacchi dei pokemon v e dei pokemon gx mamma mia ma c'è è fortissimo molto fortissimo senza nessuna energia porca miseria proprio buono oh hai visto che ogni tanto alla fine a lamentarsi però a me viene voglia ancora di aprire un prego dei ribelli dai apri un altro ma una testa dai su io li metto tutti qua dopo scegli si ognuno si sceglie il suo dai faccio pioggia dei pacchetti anche ora troppa pioggia nel cascato nel cascato io prendo questo io pesco questo vai rillabum rillabum vai a questi riasci fanno me ne importa dai ragazzi scusate ma ci vuole il spacchettamento prima di concludere il video perché siamo rimasti con un po' di amaro in bocca però abbiamo trovato abbiamo trovato abbiamo trovato sai cosa stavo pensando che potremmo fare lo spacchettamento c'è c'è non ho visto non ho visto però ho visto qualcosa di nero acqua sopra quello è il codice no non è questo ultimo ma quello è mezzo ma vedremo speriamo che sia che ci manca allora ragazzi il codice potrebbe essere un rillabum non c'è mai uscito rillabum eh infatti la vedi la vedi la vedi si eh no me lo faccio questa è forte questa è forte questa è forte questa è fortissima Atmor sa tu è molto luccicosa Appling Atenna Arrokuda Mewt di Gala ti prego cioè tra tutte le full art ci doveva uscire proprio questa ci doveva uscire proprio Sinderence vabbè tanto tanto meglio scambiarla è sempre la v parliamo di Dio però insomma fatissima comunque stiamo diventando veramente esigenti però guarda questo acqua reverse sai che non ce l'abbiamo ma non ce l'abbiamo nemmeno normale questa sicuro sicuro allora bene allora cioè guarda uno due tre quattro cinque cinque cose abbiamo trovato non so però cinque cose queste tre carte ce le possiamo far scambiare per altre cose adesso cominciamo ad avere un bel po' di carte quindi allora ragazzi uno due tre quattro energia forse no non mi dire così scuntano forse forse che Sonia Sonia ci sta uscendo cioè non c'era uscita per un sacco di tempo che ho cominciato a uscirci sempre meditate grambi electra natu ownage stufurre beh niente vabbè vabbè io direi che insomma poteva andare peggio così come poteva andare meglio è giusto? questo è il bottino una full art 3v e 2 olo 1 olo 2 olo perché c'è milotic però quello là è triplo anzi quindi neanche scambiarla però abbiamo sempre spacchettato vabbè perfetto ragazzi allora facciamo vedere così per me per me va bene sì nel senso attenzione meglio questi che comprare un box secondo me cioè riescono a più carte noi abbiamo aperto esattamente cioè ma se compriamo il box infatti ci possono uscire 8 carte riescono fighe sì però ci possono uscire anche 8 carte qualche carta di quelle 8 doppie certo ma soprattutto ormai che ne abbiamo cioè conviene sempre cominciare con un box però questa volta i box non erano disponibili abbiamo cominciato con altro e continueremo con altro quindi ragazzi il video è terminato noi ci vediamo venerdì prossimo mi raccomando seguiteci e iscrivetevi al nostro canale seguiteci anche su TikTok e soprattutto su Instagram seguite la Premiere perché anche lì regaleremo dei codici chattando con voi l'appuntamento per venerdì prossimo alle 19 e noi vi possiamo salutare grazie per averci seguito e ci vediamo venerdì prossimo ciao ciao ciao